e dunque abbiamo visto come nella costruzione di questo meccanismo che poi col video easing lo metto qui non si riesce a schematizzarlo con lo schizzo di solidox col constraint trazione traction come viene chiamato in americano noi l'abbiamo tradotto trazione ok che comunque è vincolo che simula l'accoppiamento di vuote dentate dunque fallisce quello non funziona bene e però non riesco neanche ho detto provo a sostituire quello della cia naturalmente fallisce anche quello perché non mi crea la cinghia perché questo giustamente questo e questo sono dentro di fatti se io vado strumenti entità di schizzo e vado a fare cinghia catena ok vediamo qua devo metterlo qua se no non funziona e seleziono questo questo me li prende ma poi quando schiaccio così come dice le puleggi selezionate sono solo a porte non me lo fa fare con come si dice con la cinghia non riesco a farlo perché volevo provare no a simulare ma non non si può giustamente ragione perché è stato studiato a porta per puleggi separate e dunque non si può simulare oggetti che sono all'interno tra di loro e il traction fallisce perché quello non lo so probabilmente parla gomito all'algoritmo controlla perché non simula in modo corretto l'avanzamento e lo stop del della ruota dentata interna quella quella chiamata corona ok e chi è questo questo qua non lo simula in modo corretto e dunque niente l'unica alternativa per simulare questo questo meccanismo step and well meccanismo è semplicemente col frutto di frutto intrativo perché oggi come oggi con lo schizzo 2d non riesco in in solido spero di essere stato utile ci vediamo la prossima arrivederci